A Belmonte Piceno è stato ritrovato uno dei reperti più straordinari conservati nel nostro museo. Si tratta di un nucleo di ambra in cui è stata incisa la rappresentazione di un leone e una leonessa. Originariamente ornava una fibula, cioè una fibbia che serviva ad allacciare gli abiti e si tratta di un oggetto di estrema raffinatezza, sicuramente deposto in una sepoltura femminile. Questo reperto documenta anche la presenza nella nostra regione di questa resina fossile, lambra. Lambra era molto amata dai Piceni che la usavano moltissimo per realizzare collane, per realizzare molti monili, molti gioielli, serviva per ornare le fibule come l'ambra di Belmonte e veniva dal Baltico ed era probabilmente anche commercializzata proprio attraverso il Piceno nelle altre regioni italiche. Si tratta di gioielli sempre molto raffinati che appartenevano all'élite, manufatti di grande raffinatezza e di grande pregio.